Buongiorno amici di Monte Meraviglia, oggi siamo in trasferta sull'Appennino Toscano e più precisamente sopra il Val d'Arno. Adesso stiamo camminando per mezz'ora verso la famosissima Falesia di Massanera, che vi facciamo vedere fra poco. Siamo arrivati alla Croce di Massanera, qui sotto c'è la Falesia. Allora, la Falesia di Massanera si sta rivelando molto interessante, è su placca, tutta arenaria e abbiamo già fatto una via di quarto b, mi sembra, per aprire le danze e adesso continuiamo. Allora, stiamo tornando verso la macchina, comunque giornata proficua, abbiamo fatto 5 vie, un'ottima alternativa nelle giornate di pioggia o comunque che tendono al brutto. Ho una Falesia invernale, fantastica. È molto carina, soprattutto perché consente di arrivare abbastanza facilmente con la macchina, farsi una mezz'oretta massimo a piedi e godersi una bella giornata. Giù, ma che stai a fare? Faccio le prove. Di che? Adesso cammina sull'acqua. No.